Grazie a tutti, siete stati splendidi, grazie, alla prossima direi che possiamo anche salutare e dopo vediamo, ma sai cos'è? Oh, ma sai cos'è? Vesti sbogliatamente, non metti in maniera che possa tirare attenzione Un particolare, solo per farti guardare Rock'n'Roll! E' un pop, e' un pop! Da 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 da! Da 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 da! Da 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 da! Tadadada! Tadadada! M'inicano non fa ruolo di approcci, che non vedi se non vedi degli sveliti con sole, che chiara con un'arma e si pesca come l'aria. E di cosa se qualcuno ti guarda, se è fantastica quando si assorba Le tue problemi, le tue pensieri E sti sbogliatamente, non vedi mai niente che possa tirare a me solo In particolare, solo per farvi guardare E con la faccia pulita i cammini, quest'anno mangiando la vera per i libri di squadra Mi piace spiegare, lo vedete e mi fai trovare Quando guardi con quei piacchi grandi, non so un po' troppo sinceri, sinceri e sinceri Si vede quello che pensi, quello che sogni E in particolare, solo per i libri di squadra E in particolare, solo per i libri di squadra E in particolare, solo per i libri di squadra E in particolare, solo per i libri di squadra Me lo fate con un grandissimo applauso? Perché tutto questo senza di voi? Perché tutto questo senza di voi? Uno, due, tre... E' straccio! E' straccio!